Come è la conferenza agricola regionale? Sono sicuro che anche oggi sarà così e ci avviciniamo alla data della conferenza agricola regionale. Avremo un passaggio intermedio intorno alla metà di aprile in sala giunta con il Presidente per presentare a tutti gli interessati, agli esiti di questi tavoli e poi ci avviciniamo rapidamente a quello che sarà il momento conclusivo della conferenza agricola regionale, che sarà un momento non conclusivo dal punto di vista degli obiettivi ma iniziale perché si getteranno le basi per la politica agricola regionale da qui ai prossimi anni. Quindi confidiamo che anche oggi questo tavolo dia un contributo importante in modo da essere presenti anche sul piano della comunicazione, dell'innovazione e della conoscenza in maniera significativa.